Ciao a tutti, come andiamo? Una pizza grande e familiare, la pasta al pomodoro, insalata fresca e tre Coca-Cola. Buon appetito ragazzi. Andiamo. Palapizza, tan italiana come un Alfa Romeo, celebra su 30 anni rifando un Alfa Romeo. Participa con la compra di ma di 500 pesos e una Coca-Cola. Para conoscere l'Italia, solo vena Palapizza. Grazie a tutti.